Schena Assicurazioni Generali Garibaldi Il mondo dell'impresa si è trasformato in gioco per i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Alberti di Bormio. Gli studenti della Quarta C, guidati dai docenti Francesca Marchica, Francesca Dossi e Corrado Annulli, dopo nove mesi di sforzi, hanno dato vita ad un progetto molto interessante. Si tratta di Giocolandia, una biblioteca in cui l'oggetto di scambio non saranno i libri, bensì i giocattoli. L'iniziativa, che rientra nel progetto di educazione imprenditoriale Impresa in Azione, proposta da Junior Achievement ai ragazzi dai 16 ai 19 anni, ha subito colpito la curiosità degli studenti dell'Alta Valle, che hanno così deciso di realizzare questa speciale azienda, costruita sulla base delle esigenze che i giovani hanno notato sul territorio, andando ad approfondire tematiche quali l'offerta del servizio e le modalità di gestione. Un progetto che non solo risponde ai bisogni dei più piccoli, ma che tiene a debita distanza la cultura dell'usa e getta, ridando nuova vita sia ai vecchi giocattoli che all'aula del semi interrato della ragioneria, ormai abbandonata. Balocchi di seconda mano, offerte in donazione o in prestito delle famiglie della valle, hanno riempito quella che ora è la sede di Giocolandia, inaugurata ufficialmente venerdì pomeriggio, tra momenti di socialità e divertimento. Entusiasti, bambini e genitori, contagiati dalle euforie dei ragazzi, che grazie a questo progetto sono riusciti a confrontarsi, mettonosi in gioco, a confermarlo la docente Marchica. Questa esperienza intensa e faticosa ha permesso molti studenti di aprirsi, sperimentando e provando cosa vuol dire fare impresa e relazionarci con l'ambiente esterno, spesso sconosciuto, e ha fatti crescere, condividendo momenti che sono certe non scorderanno mai. È convinta di questo anche la professoressa Dossi, che ha confermato come un impegno in metterci in gioco, in fare gruppo, ha trasformato ognuno di loro, insegnando cosa significa essere una squadra unita verso il risultato. Giocolandia non è dunque una semplice banca gratuita dei giocattoli, ma un esempio concreto dell'alternanza scuola-lavoro. La proposta sarà attiva ogni lunedì e venerdì, dalle 15.30 alle 18, presso l'aula video dell'Istituto Alberto di Borimo, in Vimeanzone 4, fino al 29 maggio. Grazie. Grazie.